Angelo, ma tu non piangi mai? Io mi commuovo spesso ma non piango mai, quasi mai, se le lacrime cominciano a scendere io non posso asciugarle, non posso avvoltarmi, non posso nasconderle e quindi cerco di trattarne le più possibili dentro di me. Ieri però mi sono commosso così tanto che ho proprio pianto. Lacrime, particelle di emozioni liquide. Se le lacrime possono ancora uscire e scivolare vuol dire che sono esenti dalla malattia del motoneurone. Le lacrime non hanno la SLA, le emozioni non si ammaleranno mai. È bello, ma fa paura. E se i miei occhi si bloccassero prima delle mie emozioni? Vorrei non pensarci, ma non ci riesco. Io la metto di spalle davanti a me.